A partire dal 30 maggio le forze dell'ordine lecchesi potranno utilizzare il Taser, pistola che tramite due elettrodi trasmette una scossa in grado di immobilizzare una persona. Un'arma classificata come non letale, già in uso da anni negli Stati Uniti, ma al centro di numerosi casi controversi. Secondo Amnesty International sarebbe stata responsabile di centinaia di morti negli USA, tesi negata dall'azienda produttrice. Ad annunciare l'arrivo del Taser in provincia di Lecco, il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, nel corso del nono congresso del SIULP, primo sindacato di polizia in provincia di Lecco, con una rappresentatività vicina al 30%. Polizia, carabinieri e guardia di finanza che fanno attività di controllo sul territorio avranno in dotazione questo fondamentale strumento, ha spiegato Molteni, che ha tenuto a precisare che non si tratta di uno strumento di offesa, ma di difesa, che tutela l'incolumità dell'operatore delle forze di polizia. L'introduzione del Taser è stata accolta con grande soddisfazione dal segretario generale provinciale Mario Scinetti, rieletto alla guida del SIULP, Lecco, al termine della giornata congressuale. Allo stesso tempo sono state evidenziate le criticità irrisolte che pesano sul lavoro quotidiano delle forze di polizia. Oggi il problema locale più grande è l'indubbia emorragia degli organici che coinvolge tutti i settori della nostra provincia, ha illustrato Scinetti. La polizia stradale ha un organico inadeguato alle necessità operative, situazione aggravata ancor più dalla mancanza di ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno mai trovato la copertura prevista. Un problema è quello della carenza di personale che riguarda anche la polizia ferroviaria, la cui competenza è stata di recente stesa anche a tutta la provincia di Sondrio. Sessa questione riguarda anche la locale Questura, dove, dice il sindacato, l'approvvigionamento lì personale non riesce in pratica a colmare i vuoti di organico per via dei pensionamenti in itinere, ma anche inoltre l'ufficio autonomo della polizia postale. Evidenziate infine l'escalation di episodi di violenza perpetrati in danno degli operatori. Un ringraziamento al SIULP è giunto dal segretario generale della CISL, Monza Brianza Lecco, Mirko Scaccabarozzi, per il grande lavoro di rappresentanza sindacale che svolge quotidianamente sul territorio.